aveva una casetta piccolina in canada con vasche pesciolini e tanti fiori di lilla e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in canada buongiorno signore ordine qualcosa si un caffè e un biliardo un caffè un caffè e un biliardo c'è un equivoco signore va beh dai portami pure quello non ha capito c'è un doppio equivoco buono lo deve essere beh vabbè dai oggi alla grande dai caffè doppio equivo